Allora io intanto sono entusiasta tanto perché mi sembra che mi aiuterà tantissimo a migliorarmi proprio nella quotidianità al di là della lingua inglese che vorrei imparare. Mi piace tanto questo clima che si è stabilito che si è instaurato qui in famiglia tra noi tre con Gabriele che mi stuzzica sulle schede mi fa le domande questo è una cosa veramente molto interessante e mi augurerei che quello che tu fai che è meraviglioso importantissimo si potesse diffondere nelle scuole perché davvero davvero manca manca tanto e insomma i ragazzi sono il futuro. Quindi mi fa tanto piacere che l'abbia fatto mio figlio come anche tutti i ragazzi che ho visto lì questi bambini meravigliosi e fai un lavoro molto ma molto utile al mondo. Grazie a tutto lo staff bravissimi tutti. Grazie grazie.